Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo lieti di proporre in vendita un ampio appartamento di 130 metri quadri, situato al secondo piano di un condominio prestigioso, subiale e nauti a Pari, dosato di campi da tennis e di tutti i comfort moderni. Marcando la soglia ci accoglie un ampio ingresso che introduce agli ambienti ben distribuiti. A destra troviamo un luminoso soggiorno pranzo, un cucinotto funzionale e una lavanderia, tutti con accesso ad ampi balconi che inondano gli spazi di luce naturale. Proseguendo attraverso il corridoio accediamo alla zona notte, composta da tre camere da letto, due con finestra e una con balcone esterno, ideali per garantire comfort e privacy. La zona notte è servita da un bagno padronale e uno di servizio, entrambi con finestra. L'immobile gode di doppio affaccio che rende gli ambienti agliosi e luminosi, favorendo una ventilazione naturale e ottimale. Inoltre è presente un comodo posto auto nel fortile condominiale, offrendo ulteriore praticità. Questa proprietà rappresenta una soluzione abitativa ideale per chi desidera vivere in un ambiente spazioso beneficiando di tutti i servizi e le comodità di un condominio esclusivo. Non perdete l'occasione di visitare questo magnifico appartamento e scoprire tutti i dettagli che lo rendono unico. Contattaci per maggiori informazioni o per prenotare una visita. Ciao, alla prossima!